Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dell'NDE di Alessandra, è un'NDE italiana, una ragazza allora ragazza italiana, del 1978. Perché voglio parlarvi di questa NDE? Innanzitutto per dare la conferma alla regola che le NDE non sono dovute a stupefacenti. E di fatto in questo caso vi parlo di una ex tossicodipendente. Alessandra Palermo, così si chiama, era un eroinomane. Sapete voi che negli anni 70 la droga per elezione era l'eroina che ci si bucava in vena e ci si sparava in vena. Succede che l'eroina, soprattutto se iniettata in overdose eccetera, provocava la morte per infarto. Quindi si può pensare che un eroinomane piuttosto che un tossicodipendente di altro genere possa vivere delle allucinazioni simili all'NDE e sono stati fatti dei tentativi. In realtà l'eroina e altre droghe non danno questo tipo di allucinazioni, danno sensazioni completamente diverse. Ma soprattutto, come in questo caso, indeboliscono il cuore. Difatti Alessandra si era fatta quella mattina una dose eccessiva di eroina. Ma una volta svantita l'eroina, sapete che ci vogliono un po' di ore, poi si perde l'eroina, ha iniziato a sentirsi male. Sentirsi male, sentirsi male, il cuore non aveva retto. Quindi Alessandra collassa. Collassa, fortuna vuole che ecco una sua amica che prontamente la porta in ospedale. Infatti lei collassa proprio mentre sono in automobile, che la stava trasportando a casa, l'amica di Alessandra. Alessandra, una volta collassata, non capisce più niente, non si rende conto più di nulla. Viene portata all'ospedale dove i medici al pronto soccorso dicono subito all'amica, una volta constatate le condizioni di Alessandra, sapete che allora nei pronto soccorsi si accedeva più facilmente anche amici e parenti, le confermano che c'è poco da fare, che Alessandra ha il cuore talmente compromesso che non ce la fa, non sta reggendo. E così è, pochi minuti dopo, Alessandra muore. Il cuore cessa di battere, il respiro termina e Alessandra ci racconta che si è vista, proprio si è sentita uscire dal corpo e si è vista dall'alto, la famosa obe. Ha cominciato a vedersi dall'alto, a vedere i sanitari che cercavano in qualche misura, in qualche maniera, di rianimarla e che iniziavano a fare i flebo e iniezioni di farmaci. Si è poi ritrovata, dice Alessandra, in un luogo buio. Questo luogo buio era connesso a un tunnel che per lei aveva una, come dire, un'aurea spaventosa, cioè questo tunnel le incuteva timore, quindi voleva rimanere a galleggiare sopra il proprio corpo, sopra i sanitari, ma il tunnel la risucchiò al suo interno. In fondo, in lontananza a questo tunnel, vedeva una luce che lei avrebbe voluto raggiungere, avrebbe voluto toccare, avrebbe voluto incontrare, però era incatenata a qualcosa che la intratteneva. Non riusciva a capire che cosa la intratteneva. Era trattenuta dai piedi e si accorse che aveva come delle grosse scarpe di metallo che le impoedivano di andare oltre. Cercò di levarsele perché voleva volare verso questa luce. Niente da fare perché improvvisamente due mani demoniache, che, almeno così lei le descrive, la ferrarono per le scarpe metalliche e cominciarono a trascinarla verso il basso. Improvisamente sentì una voce all'interno della propria testa. Cambia, 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 ama, ama. Queste furono le parole che si sentì risuonare nella testa. Nel momento in cui lei pensò, sì, voglio cambiare, sto facendo una brutta vita, ecco che improvvisamente le scarpe di metallo si aprirono e lei si sentì volare verso la luce. Solo che un paio di secondi dopo questa gioia le fu interrotta e si sentì risucchiare dal tunnel, aveva paura di essere prontamente nuovamente catturata da quegli scarpe metalliche e da quelle mani demoniache, ma invece si ritrovò nel proprio corpo tutta dolorante e vide medici e infermieri sudati ma felici per essere riusciti a rianimarla. Ecco che questa NDE di Alessandra non è possibile considerarla una vera e propria NDE negativa, ma comunque è un NDE di cambiamento, di profondo cambiamento. Fra le altre cose i medici stessi non si spiegano come è stato possibile rianimarla, nonostante all'epoca, con le tecniche dell'epoca ovviamente, a loro parere, medico-scientifico, non ci sarebbe stata possibilità di riportarla in vita. Ciò nonostante, secondo protocollo, loro cercarono in tutti i modi di rianimarla ottenendo questa rianimazione insperata. Bene, scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa esperienza di NDE di Alessandra che vi ricordo è successa nel 1978, anzi nell'inverno del 1978. A tutti voi un caro saluto, iscrivetevi al canale, mettete like, condividete il video sui vostri social, aiutate il canale a crescere, ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Armando, ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS